È stato un mese di agosto difficile per la consegna della posta nel Bassanese. Sono numerose le segnalazioni giunte alla nostra redazione da telespettatori del comprensorio arrabbiati per i ritardi. Un miraggio al postino in alcune aree della Val Sugana e in particolare a Pove del Grappa. Consegna a Singhiozzo anche in via Capitano Alessio Arosà. Nel comune di Bassano poi di servizi postali estivi in varie zone della città. Rondo Brenta e quartiere 25 Aprile. Disagi che vanno a sommarsi a quelli che si erano registrati a luglio in destra Brenta da quartiere Angarano fino a Campese con la corrispondenza che in quel periodo arrivava veramente a Singhiozzo.